Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Rision, io sono lo sconosciuto, vi do il benvenuto in una nuova recensione. L'estate ormai è quasi finita, come al solito i mesi di luglio e agosto diciamo hanno avuto un rallentamento, ci sono stati meno film e meno uscite in sala. Però l'estate è anche il periodo principale per gli horror, perché appunto l'horror è un genere che ricorda non so perché in qualche maniera molto l'estate. Infatti il film di cui voglio parlare oggi è proprio un film horror thriller, che però è un po' più di nicchia, un po' più particolare. Quest'anno non ci sono stati tantissimi horror e molti mi hanno deluso. Questo qua però l'ho visto diciamo girare su internet, ho visto girare il trailer, ho visto persone che ne parlavano molto bene, mi sono incuriosito, sono andato un po' a documentarmi e ho deciso quindi di andarlo a vedere, perché mi aveva in qualche modo colpito. È un horror che molti lo hanno elogiato per il suo essere un po' particolare, ovviamente anche un po' di nicchia non conosciuto ai più ed è anche molto crudo e, come dire, disturbante. È un horror davvero particolare. E quindi ho deciso di guardarlo e di recensirlo dopo la visione, perché ne sono rimasto comunque colpito. Quindi andiamo a parlare di questo The Devil's Candy, è il titolo, la caramella del diavolo. Prima ovviamente facciamo partire però la sigla. La trama di questo The Devil's Candy potrebbe lì per lì all'inizio sembrare abbastanza banale e rindondante. Una famiglia che si trasferisce in una casa dove c'è stata appunto la morte misteriosa di due coniugi. E quindi di nuovo la solita cosa, dalla casa indemoniata infestata. Invece no, perché l'atmosfera, i personaggi, il tono e lo stile della pellicola sono davvero particolari ed interessanti. Infatti, i nostri protagonisti sono tre membri appunto di questa famiglia che è però un po' particolare. Infatti il padre, sia dal punto di vista visivo che dal punto di vista ovviamente comportamentale, è un appassionato di rock. Un vero appassionato di hard rock, metallica, eccetera, eccetera. Infatti ha i capelli lunghi, vestito proprio davvero rocchettaro, con le magliette sempre delle sue belle preferite, eccetera, eccetera. E ha anche un po' un comportamento così giovanile da rocker. E stessa cosa sua figlia, infatti anche lei è una incredibile appassionata di musica rock. La moglie non tanto, però anche lei diciamo è di larghe vedute. Un'altra vicenda, fumerà dalla marijuana con suo marito. È una famiglia un po' particolare. Comunque ricorda una qualsiasi famiglia, c'è amore, c'è volersi bene l'un l'altro, ci sono litigi, tutto quello che è, che ci deve essere una famiglia normale. Ma ovviamente hanno, diciamo, non sono il canone della famiglia americana che di solito si vede in tutti i film. Il tutto si complicherà dal momento che spunterà nella vicenda il figlio dei due coniugi morti nella loro casa. Un psicopatico, anche lui appassionato di musica rock. Anche se ci sono comunque degli elementi paranormali all'interno della vicenda, in qualche modo il film non ti dice mai effettivamente se essi siano veri o meno. In qualche modo questa cosa paranormale stona in un contesto abbastanza realistico. Magari inusuale, ma molto realistico. C'è tanta realisticità, perché quello che viene rappresentato, le dinamiche familiari, tutto quello che succede, sono abbastanza, sono reali, ma vengono inseriti alcuni elementi che in qualche modo stonano e che ti fanno rimanere in quel limbo. Non capisci se effettivamente c'è del paranormale oppure non c'è. Poi il film ha un'atmosfera e delle vicende, come dire, davvero disturbanti, che in qualche modo ti danno fastidio, proprio grazie all'accostamento di elementi disturbanti contrapposti a una normalissima realtà familiare. Ed è proprio una cosa che ho trovato bene realizzata. È proprio questo che ti crea il fastidio e tutte le varie scene magari più brutali, più sanguinose, all'interno di tutta la vicenda. Molto bella l'associazione tra il demonio, che è un po' l'elemento paranormale, e la musica rock, il mondo del rock, ricordando un po' anche appunto il discorso del rock satanico, eccetera, eccetera. Però questa associazione non è fatta in maniera stereotipata. Ok, sì, il rock deve per forza indeggiare a satana, no. Non è fatta in questa maniera. È realizzata in un altro modo, che non vi riuscirei a spiegare senza far spoiler, ma che ho apprezzato davvero, davvero tanto. Ci sono scene che hanno un forte impatto visivo, e sono molto disturbanti, ti tendono i nervi, ti mettono molta ansia. Non ci sono jump scare, o meglio, non mi sembra, non ce ne sono dei significativi. La paura e la tensione è regalata tutta dalle vicende del film, e come ho già detto, dalla continua contrapposizione di paranormale, demoniaco, in un contesto reale, molto realistico. Ma anche di situazioni, come dire, inusuali, appunto lo psicopatico, che in qualche modo ti molesta, ti disturba in casa, e tutte queste cose qua, sempre cavate in un contesto apparentemente normale e realistico. Sean Byrne, non so bene quale sia la pronuncia, il regista, appunto, di questa pellicola, è in qualche modo riuscito a cavarsela molto bene. Ci sono dei movimenti di macchina, comunque, abbastanza interessanti, ogni scena è ben diretta, è enfatizzata bene, il montaggio, comunque, lavora molto bene assieme alla regia, riuscendo, diciamo, a non rimanere una regia semplicemente nella norma, ma riesce a dare un qualcosina di più. Si sente sempre quella sensazione di demonio alle spalle, di costrizione, di malsano, di disturbante. L'unico momento in cui si storce un po' il naso, secondo me, è il finale, che in qualche modo è un po' troppo assurdo, un po' troppo esagerato, per il resto della normalità del film. C'è un significato davvero bello dietro, che ricorda, appunto, la Bibbia, i demoni, tutto questo mondo qua satana, e questo significato, che voleva lasciare il regista, mi è piaciuto davvero, davvero tanto, solamente che, secondo me, la messa in scena non è stata proprio delle migliori. Non è un brutto finale, però, stona un po' rispetto a tutto il resto del film. Molto ben fatta, in generale, la costruzione, e la struttura dei personaggi, così come la loro interpretazione, e ben fatta l'interazione tra di loro, secondo me, soprattutto tra i membri della famiglia. Shiri Appleby interpreta quella che è la madre, un personaggio un po' più in ombra, ma comunque, l'attrice è stata brava ad interpretare quel ruolo, che, nel momento in cui serve, fa il suo dovere, diciamo. svolge tutte le sue funzioni. La figlia Zoe, invece, interpretata, leggo, perché non sono attori famosissimi, da Chiara Glasgow, e questa ragazzina è stata brava, secondo me, a interpretare la figlia di quello che poi è il nostro protagonista, e soprattutto, in certi momenti, un po' più thriller, che riguardano, appunto, lo psicopatico, di cui vi andrò a parlare dopo. E, comunque, mi è piaciuto, soprattutto, come hanno reso, proprio, il comportamento di questa ragazzina, appassionata di rock, ma comunque, rimane una ragazza. E, il suo rapporto con il padre, interpretato, leggo di nuovo, da Ethan Embry, il padre Jesse, appunto. E, dal punto di vista visivo, mi è piaciuto come hanno reso il personaggio, perché, ha un'iconicità, lo riconoscerete subito, e lo capirete, soprattutto, verso la fine. E, il classico, è rappresentato molto bene, con il suo comportamento, dal classico rocker, ma, allo stesso tempo, è anche un padre di famiglia, che deve portare, deve lavorare, deve, appunto, occuparsi della figlia, proteggere la casa, in qualche modo. E, l'attore è stato molto, molto bravo, a sviluppare un cambiamento, che ha il personaggio, durante tutta l'evoluzione, della narrazione, che, ovviamente, non posso dirvi, ma, che ho trovato, comunque, ben scritto, e ben interpretato. È riuscito, soprattutto, a lavorare molto bene, sulle espressioni, del personaggio. Doveva rappresentare, tra virgolette, certe emozioni, ed è riuscito, a farlo bene, l'attore. Forse, quello, il ruolo che ho apprezzato di più, è quello, del figlio, psicopatico, dei due coniugi, appunto, morti, nella casa, della famiglia, Il nome è Ray, e l'attore, è Pruitt Taylor Vines, Vines, scusatemi, la pronuncia, sapete che io, non ce la posso fare. Comunque, è riuscito a rappresentare, molto bene. Questo, omone, anche abbastanza, ingrosso, che ascolta, musica rock, però, è matto, si vede, psicopatico, il perché, lo vedrete durante il film, e questa cosa, mi è piaciuta tanto, ha un legame, ovviamente, con il demonio, con tutto l'elemento paranormale del film, però, è stato anche bravo a rappresentare, questa persona, che sembra quasi un bambino, però, in verità, ovviamente, è un adulto, completamente impazzito, e fa molta paura, perché sembra proprio, non so come dire, viscido, disturbante, in qualche modo, e hanno voluto contare, in generale, nella pellicola, a regalare una patina, non so, come dire, di sudore, di caldo, la fotografia, riesce in qualche modo, ad accentuare, la pelle, dei protagonisti, e questa cosa, hanno voluto, secondo me, farla apposta, per regalare proprio, un'atmosfera, che ricordasse un po', l'inferno, la presenza del demonio, e, è una cosa, cioè, non è che è completamente rossa, o, che c'è proprio, c'è, si gronda di caldo, ma si avverte comunque, non so, un qualcosa, all'interno, di tutta l'ambientazione, di tutta l'atmosfera, la colonna sonora, è un'altra cosa, che ho apprezzato tanto, perché comunque, in qualche modo, hanno utilizzato solamente, la musica rock, in particolare, qualcosa, che ricordasse un po', rock satanico, e, in una certa maniera, non avrei mai visto, bene, il rock, come musica, per un horror, soprattutto, per momenti di tensione, di paura, ma invece, qua, sono riusciti ad adattarla, perfettamente, alle varie scene, in maniera, che facesse la funzione, di una normale, colonna sonora, non rock, che di solito, si vede in un altro, in altri horror, e questa cosa, l'ho apprezzata davvero, davvero tanto, quindi, secondo me, The Devil's Candy, è un horror, molto disturbante, particolare, un po' di nicchia, che, va recuperato, dura poco, dura un'ora e venti, quindi, anzi, anche meno, se non considerate i titoli di coda, circa un'ora e dieci, e, che, secondo me, se siete appassionati del genere, vi piacciono cose, magari, anche un po' più particolari, vi farà, rimanere davvero soddisfatti, almeno, per me è stato così, infatti, gli do addirittura, un otto meno, contestualizzato molto, al suo genere, secondo me, se lo merita tutto, quindi, io concludo qua, la recensione, ragazzi, vi ringrazio, vi consiglio, di recuperare questo film, magari più secondariamente, capisco che, possono essere tante uscite, però, ve lo consiglio, soprattutto, se siete amanti, come me, dell'horror, come sempre, se vi va, lasciate un like, al video, iscrivetevi al canale, guardate, nella descrizione, i nostri link, ai vari social, io vi ringrazio, non mi dilungo oltre, vi saluto, vi abbraccio, ci vediamo, alla prossima. Grazie.